allora top 3 si o no due minuti per votare rega avete wow madonna cioè io st'anomalia la adoro è troppo bella da guardare anche però non so chiro prendere non so se sono più pro etc o pro sire denatrius qua le bet ci dovrebbero essere rega sono state fatte ora o etc o denatrius qua di ok per me tc da telefono uscite rientrate si si buggano da telefono come dice fire standings fate conto davvero questo figlio di troia non livella mi è mutato poverino e c'è la mamma che porco dio prende i cazzi nel culo quella bastarda troia di ok non livellare figlio di puttana porco dio quella zoccola ce lo dico io dio ca godo 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 non so se 1 3 è forte con lui perché si spuona dei non morti sono baffati cazzo forse prendiamo 1 3 over 4 1 qua vi dico mi sembra op 1 3 qui è mai da frizzare sta roba capi lo potremmo anche fare a capi e tirappare come 49 di loss dio ca però oh mamma davvero zio no way eh non voglio perdere il fight godo un giocatore sontuoso come me non può perdere un fight contro un tipo del genere contro un essere irrilevante capo tutto bene teci palippa come va vezz come stai how's going capo questo è il nuts ma ti dico io quasi ti rapperei al 3 dio ca è un po' gridi ma no qua ti rappo sempre e op riesco a livellare e non prendere danni ora dopo siamo già al 3 e prendiamo dopo facciamo il top sarebbe far buy vendo altro buy ora che ha il 40 43% mi dice vediamo questo qua è salito subito al 3 per prendere il pezzo al 4 ma non so che play sia per galacrond fare fare sta roba cioè non so quanto worth sia per lui eeeh mmm ok che culo gold o questo gold non è male però rischia di non farla io prenderei lui per sicurezza qua prendo questo che mi da un gold in più turno dopo un po' bad sto turno e non abbiamo fatto nulla di che però vabbè andiamo insomma ho preso il gold ovvero il più 2 più 2 perché preferisco un gold in più potevo scegliere se prendere più 2 più 2 e il gold in più e questa qua l'ho rollata dopo io l'ho rollata dalla 6 4 che volveva il pezzo in locanda quindi prima dovevo prendere la 6 4 che volveva il pezzo in locanda ha rollato quello che fa cagare ovviamente di ok lo so che non ho 6 4 su board ma un gold in più che secondo me è meglio di 6 4 per quello il discorso ok buono direi che il fight non l'ho perduto buono domani sera sarò con poli, spawn e leonardo da anime night da media che fa un format sui pokemon e faremo un 2v2 e mercoledì sarò da gioé a fare gioé banda contro spawn ieri sera ho visto che c'era michelle puttini e kodomo yuki kodomo kodomo yuki si chiama boh comunque lì da gioé oltretutto cosa piglio mostruosità a capo o mostruosità a tempo o un tenente tenente non è male per provare ad andar robot mostruosità più tempo tenente più sontuoso secondo me uno te la si piglia sempre fortissimo porco dio un mio zoo enorme questo cazzo è sta roba che cool godo qua perdevo se quella lì mi andava sulla mostruosità penso verosimilmente parlando capo buona hit ma guardate ok not bad ok madonna santa però bro oh mamma c'è in usa attaccato tre volte ok buono rende dorato un tuo figlio questo lo faccio qua sembra sgrava sta roba no mi sembra molto sgrava sta roba capo se posso consentirmi di dire ho lui però secondo me è più forte lui e poi venderei 8 4 2 3 potrei vendere 8 4 2 3 chiudo su 3 3 su 3 3 oppure chiudo su 7 1 è sicuro questa la vendo questo lo prendo sicuro penso anche questo è considerabile verosimilmente ha il gold qua mi garba gold a unire lei mi garba perché non mi occupa neanche spazio su bordo alla fine però alla fine a me interessa non perdere il fight qua ti dico 4 1 fa un po' a cagare questa ora era buona in Irly ma ora è meno forte 3 3 del gold fa schifo anche da vendere quella ora è stata utile ce l'abbiamo presa gratis perché già tre turni che l'abbiamo quindi ci ha già dato tipo 3 gold quel che è però ora dovrebbe saltare penso buono questo è terminato noi stiamo andando full tempo vediamo un po' we are going full tempo brother for now questo è forte porco dio questo da goldare è una bomba fortissimo questo qua da goldare con lui compro lui prima penso qua vediamo vabbè che merda dio cazzo vabbè faccio così rega meglio di nulla no tanto non è che abbiamo gran che da fare ora starai fermo così no goldiamo il tank qua abbiamo un finita roba che spawna forse questo va qua addirittura no così tipo mi sembra fine no non è che soli di capi stamani abbiamo super gg in lobby pazzesco come codiamo sempre allo stesso momento cioè che cazzo è incredibile facciamo metà delle lobby assieme porca troia questo qua è sgravo da pigliare anche rivellare a capino ci sta ma sto turno forse sarei fermo non è male il segreto casuale a fine turno ci può dare l'ice block questo per dopo anche vediamo adesso lo piglio questo no cos'è che salta? forse il taunt non è così buono taunt in realtà non è male secondo me la mostruosità forse non è insana ora avendo una build tank forse la mostruosità sapete non è così buona non la gold neanche più non è così buona lui è figo solo che l'abbiamo preso per sto turno se ci rolla l'ice block è insano chiaramente how's going menziato non male sta roba no mi ha tolto il taunt si spinge sempre questo è chiaro madonna il tank dorato sei forte sta lobby tank golden e il nuts riuscissi a goldare quello che è da taunt e trovare un altro tank doppio tank dorato sarebbe ma dobbiamo livellare comunque non ha senso non livellare per noi ora porco dio l'abbiamo trovato davvero altro tank cosa piglio cioè avendo il 3-5 che mi mette segreto per altro tank non è male non è una brutta play solo che non mi può più dare l'ice block ma sti cazzi abbiamo quello lì dei demoni io lo piglierei altro tank qua mi sembra troppo sgravo per non farlo posizioniamo così perché se lui muore spone i robot no? e via vediamo c'ha due deltaplani di oca anche merda guarda i tank qua quante anni fa no? orco dio buono madonna i tanks sono forti con quello golden poi si gode si opera full tempo il thunder in sta build qua we went full tempo capi adesso jj il culone si piglia il morto tanto è sempre exe dio ca sta roba mi fa incazzare porca boia cabrobrio eeeh boh rolletti olsen taunt è sgravo da avere cioè dar taunt tipo a questo è forte come roba solo che non so se lo farei ora questo com'è anche non è male questo taunt qua fa schifo si darei taunt a lui questo è buono orollo servirebbe questo dorato anche golden trambi tank quasi quasi lo piglia non c'è niente grazie grazie lucrezia del follo grande melvinz come va caro come stai sai che da questo perdo potrei perdere insensato sto lock disumano che c'è sto tipo è un normalissimo taglio capo normalissimo taglio fresco tranquillo non so cosa abbiate sempre da ridire capi madonna mamma mia che pesantezza questo è enorme non lo batto minchia mi serve taunt da qua e sperare che quello lì non metti ti dico no si si godo 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 figlio di puttana godo vai a succhiare i maroni uno di vita godo che non ho perso il fight questo qua ci batte il late però si opera questo qua è proprio per gli arreborn intanto vediamo sicuramente questo è play ovendo lui però il tank golden ovendo uno di loro mi sono are the champions questo lo piglio per dopo c'è anche lui anche questo col buster potremmo switchare a a buster build con loro no il reborn no perché dà anche il reborn a lui dopo e soprattutto se voglio giocare mannoro till late è buono il reborn è buono tenerlo davanti perché tanto fa spazio sai che ora sto fermo adesso solo per le bombe della tramontana prossimo tiktok con lì se lucchetto qualche altra patata tattica merda è vero lo devo fare sulla lucchetta o merda scrivimela su telegram che oggi lo sparo con la lucchetta lisa lucchetta brother ciao ragazzi come va mi sono appena svegliato sono le 4 ore di pomeriggio come state non ci siamo ancora sentiti oggi ma vaffanculo porco dio ti tiro due schiaffoni e ti rimando a a pulire la merda del gatto cretina dio can la lucchetta sono maturo sono maturo però spinto i factos capo quasi a morti da questo cioè morti perdiamo il fight a mie moti io ho ancora tre turni in cui posso fare uno sontuoso switch peccato usare il roll prendo un danno top 2 top 2 la facciamo sto game intanto stiamo ancora 4 di vite se mi fornisse un cazzo di coso decente dio cane però questo salta questo salta devo vendere la monnezza capi altrimenti rischio che questo qua mi dia l'obrobre capito anima anche perché questo qua mi servirebbe questo è sicuramente mi servirebbe un taunt qua non so se è meglio lui o lui è qua questo non è male ma ti dico forse è meglio lui sapete ora avendo anche il tank questo deve saltare dopo ci serve quello che fa golden in pezzo adesso ragioniamo un attimo sul positioning farei così io nel chill vediamo no così questo qua muore forse è meglio goldar barone in realtà sì meglio goldar barone prova lì sì sì goldiam barone dobbiamo trovare i divine shield taunt da dare a loro e goldarlo con il pezzo super gg super gg ragazzi così si incazza con un bue così tilta cazzo ho fatto il poliziai porco dio si gode frigge due danni è un servitore nemico casuale per ogni tuo robot morto in questo combattimento questo non è male al posto suo tipo probabilmente ci sta a giocarlo non lo so se cosa voglio fare qui altro barone c'è ma secondo me non ha senso questo non è granché qui boh ragazzi non è che ho molto da fare qua sinceramente parlando la domanda è se voglio giocare lui o no semplicemente cioè sto turno voglio giocarlo lui o no forse no non ancora questo è buono su suo opponent tolsi mi era ben quello che ho detto finora ho detto non so se fare quella play lì o meno sto turno per ora sto turno non la facciamo è quello che abbiamo detto finora tolsi che sfiga prima che il barone si faccia golden sta roba che sfiga sul tante il coso di O'Kan comunque non la facciamo soli di capo